Il suo ultimo intervento pubblico è datato 31 dicembre 2017, il discorso di fine anno in cui annunciava, il cambiamento proprio di fisionomia del blog Beppe Grillo.it. Beppe Grillo sanciva con poche parole una svolta nel mondo 5 stelle, una svolta che dovrebbe diventare ufficiale e operativa con resta e healing del blog affidato a una nuova società, non più alla casaleggio associati già nei prossimi giorni. Mentre il blog delle stelle si occuperà sempre di politica locale e internazionale, quindi dei nostri parlamentari e dei nostri portatori di beneficio alla nazione, i nostri portavoce, spiegava, il blog Beppe Grillo, ossia io, andrò un po' in giro per il mondo con video, conferenze. Da allora, la campagna elettorale è entrata nel vivo, ma Grillo al momento sembra assente. Al punto che Luigi Di Maio intervistato da Primo Canale ci ha tenuto a precisare, Beppe Grillo è molto più presente di quanto pensiate, sarà in prima linea nella campagna elettorale, non sarebbe una bella operazione se scomparisse, non è l'obiettivo del movimento. Eppure il candidato premier pentastellato è in tour e da inizio dicembre, nelle ultime ore è stato a Genova, ma di un evento a cui abbia preso parte insieme al garante non c'è traccia. L'ultimo summit con i vertici è di metà novembre. E il silenzio di Grillo in questa fase sembra quasi il segno tangibile dell'evoluzione dei Cinque Stelle, il protagonista delle politiche del 2013 con il suo tsunami tour segue la campagna elettorale, in panchina. Rapporto sia mesè di sicuro, l'addio dopo tredici anni alla casaleggio associati il primo post del blog risale al gennaio 2005 e il testo completo recitava, questo è un post aperto per argomenti che non riguardano le città della tournée, Alcuni mal di pancia interni a M5S compresa la freddezza con Davide di cui più volte si è parlato e il ritorno all'attività di showman stanno delineando in modo sempre più netto quel passo di lato che Grillo ha tante volte evocato. Spesso in passato ha più volte ribadito la necessità per i Cinque Stelle di marciare compatti. Da qui alle politiche nessuno può permettersi passi indietro, aveva scritto lo scorso luglio, precisando anche che quello con il Movimento 5 Stelle per me è un rapporto siamese, inscindibile. Il voto ora è alle porte, il prossimo 4 marzo, ma il finale della storia per Grillo garanteruolo normato dal nuovo statuto è ancora da scrivere. 11 gennaio 2018 modifica il 12 gennaio 2018, mezzanotte e 9 minuti diritti d'autore e riproduzione riservata segui Corriere su Facebook.